Raffaella Romagnolo e Bruno Morchio sono due amici che oggi qui a YLAB si intervisteranno a Vicenda. Parlami di te, ha già pensato a qualcosa? Beh, allora intanto per me è un grande piacere, effettivamente noi siamo amici, ma siamo amici innanzitutto a partire dai rispettivi libri. Io ho conosciuto Bruno molti anni fa quando è venuto a, dove abito io, a Ovada, a presentare uno dei suoi libri. Io allora lavoravo come corrispondente locale per la pagina locale del secolo, andai a intervistarlo e da lì è partito tutto. Poi dopo un po' sono usciti anche libri miei, lui ha sempre seguito il mio lavoro, insomma è stata, è un'amicizia che si è cementata nel rispetto reciproco dell'attività proprio di scrittura. Quindi si parlerà di libri, qual è una domanda che la incuriosisce e che forse oggi riuscirà a fargli? Beh, vorrei capire, anche per confrontarmi in questo senso, che qual è il ruolo che ha la scrittura nella vita di Bruno. Spesso agli scrittori in incontri di questo genere si chiede di raccontare qual è la routine di scrittura, no? Le persone spesso sono incuriosite da questo bene. Io invece vorrei capire qual è il ruolo, come dire, intimo che ha la scrittura nella sua vita, cioè se lui si vede senza, se lui potrebbe sopravvivere senza e anche come ci è arrivato. E allora io le rubo la domanda e gliela giro. Allora, fino a qualche anno fa sentivo che era una cosa, come dire, che desideravo molto fare, ma avevo paura di affidarmi completamente. Adesso farei veramente molta, molta fatica a non sentire la scrittura come una parte integrante proprio della mia quotidianità, insomma. Affidarsi cosa vuol dire e quanto vuol dire allora la scrittura? Beh, è diventato negli anni effettivamente il mio modo, non solo di esprimermi, no? Per esprimersi scegliamo tante strade, può essere, non so, cucinare un buon piatto per una persona che ami oppure anche andarsi a scegliere un bel vestito, no? Fare shopping, ecco, questi sono sempre ottimi sistemi per esprimere noi stessi. La scrittura per me ha il di più che è quello della comunicazione, cioè non solo esprimo qualcosa di me, ma riesco ad entrare in relazione effettivamente. Fidarsi significa anche fidarsi? Un po' sì, o comunque è il sistema, il modo che io ho trovato per entrare in relazione, quindi sì. Quindi arriviamo al destino, arriviamo alla sua ultima fatica letteraria. Un libro che è una dynasty? Oh, sicuramente, diciamo, è una saga familiare, se vogliamo usare un'etichetta. Le famiglie, il concetto di famiglia qui però è un po' allargato per chi ha la pazienza e la voglia di leggere il libro, perché in questo libro si dice chiaramente famiglia è chi si prende cura. Quindi seguiamo per mezzo secolo, denso di avvenimenti, dall'inizio del Novecento al periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, seguiamo le vicende di questa famiglia allargata. 50 anni in cui nel nostro paese sono accadute veramente tante cose, ecco, due guerre mondiali, il fascismo, la lotta di liberazione, insomma, c'è di che raccontare. Raffaella ha scritto, secondo me, uno dei più bei romanzi degli ultimi, mi viene da dire, decenni. Una grande epopea contadina ambientata da parte del Basso Piemonte, parte dall'altra parte dell'oceano New York. Lei è molto radicata in quel territorio e racconta una storia che tira fuori proprio i nodi e i fili profondi delle vicende di quel territorio che io conosco bene perché è il territorio dove è nato mio padre, quindi ci sono molto affezionato. Devo dire che è un libro che mi ha molto commosso. Mentre lo leggevo proprio mi ha commosso, mi ha tirato fuori proprio una forte emozione e credo che Raffaella sia riuscita con una grande sapienza letteraria, perché lei è molto brava, a ricostruire una storia così complessa con tanti personaggi, con una folla di personaggi enormi che appartengono a quattro generazioni diverse, però a riuscire a costruirla in modo tale che il lettore non ha bisogno né di mappe né di guide perché è comunque sempre orientato. Le sigarette del manager, l'ultima sua fatica, è un manager o non è il suo protagonista? Dunque il libro richiama un titolo famoso di Basso Montalban che è la solitudine del manager e ha la struttura dei libri di Montalban, perché si tratta di un incarico affidato al detective di trovare una persona scomparsa, che poi è in genere il ruolo che svolgono i detective privati. Non è un manager, non è un manager perché in realtà è lui il padrone di questa piccola società che va in bancarotta, viene chiamato ingegner Mari, in realtà non è nemmeno un ingegnere perché è un perito elettronico, diplomato sia al Galileo Galilei. È un personaggio geniale che Bacci cerca sempre più con una sorta di ossessione nella convinzione che quest'uomo gli possa fornire delle informazioni essenziali per capire come è cambiata la valle, la valle del Polcevera. Dopo il crollo del ponte Morandi la valle è venuta un po' come dire allo scoperto, è andata sotto i riflettori e Bacci la ritrova diversa da come se la ricordava, cioè una valle industriale, un luogo di eccellenza della città, del tessuto industriale della città e chiede proprio, si aspetta proprio da quest'uomo delle risposte rispetto a cosa è diventata e cosa potrà essere la valle. Con che emozione Bacci gira sullo sfondo del crollo del ponte Morandi? Quali sono i suoi sentimenti? Un sentimento luttuoso legato ovviamente alle vittime. Lui parla di un pellegrinaggio della memoria, una sorta di viaggio liturgico quasi. C'è però come dire il tentativo di mantenersi lucido per poter capire che cosa è successo. Ma è il baci di sempre? Il baci di sempre direi sì, un baci in evoluzione perché poi il mio protagonista è in continua evoluzione con una caratteristica però devo dire che spicca in altri romanzi ma qui in modo particolare ed è diciamo ispirata a una frase del libro I disorientati di Malouf che dice che della perdita del passato ci se ne fa una ragione ma della perdita del futuro non si può farsi una ragione. Cioè c'è bisogno quindi di futuro. Questo è un libro contro la nostalgia. Cioè in una città molto invecchiata che patisce l'invecchiamento, che fatica a vedere un futuro, tutto il libro è proteso a segare la nostalgia, tagliarla fuori, smetterla di interrogarsi sul passato e invece guardare a cosa potrà essere il futuro di questa città.